Un protocollo di intesa per lo studio, la verifica e la certificazione della qualità delle acque termali di Montevago è stato stipulato tra il Comune e il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana. L'accordo è stato sottoscritto dal sindaco della città termale, Margherita Larocca Ruvolo, e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia, Salvatore D'Urso. Nel dettaglio sarà realizzato uno studio geologico minerario in zona Magaggiaro, consistente nell'attività di studio che verifichi, a distanza di oltre 30 anni, la portata indicativa dell'acquifero termale, la sua temperatura e i dati relativi alle analisi chimiche, fisiche e migliori. Lo studio è riferito in prima ipotesi alle acque termali dei pozzi già trivellati, sino alla profondità di 350 metri circa, dove è stato raggiunto il serbatorio termale con temperatura di 36 gradi, che ricadono nella zona Magaggiaro in Contrada Pianotta, appartenente al demanio regionale. A conclusione dello studio, come prevede l'accordo, potrebbe essere indetta dal Dipartimento regionale dell'Energia la gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare la concessione. Il comune di Montevago, afferma il sindaco Margherita Larocca Ruvolo, ha tutte le intenzioni di conoscere nel dettaglio quali sono le peculiarità dell'acqua termale che possiede, in una zona particolare come quella del Magaggiaro. Se le caratteristiche organolettiche dell'acqua saranno tali da presupporre un investimento, sarà poi la Regione a farsene carico e a programmare eventuali interventi. Quello sottoscritto è un accordo che potrebbe interessare anche altri comuni termali siciliani. Ringrazio l'assessorato all'Energia per il supporto che ci ha dato il distretto minerario di Caltanissetta e il dirigente generale Salvatore D'Urso, che ha chiarito in maniera definitiva quali sono le competenze sulle acque termali, che rappresentano una grande opportunità per Montevago e per la zona del Belice. Il nostro obiettivo finale, dichiara Margherita Roccaruvolo, è quello di valorizzare il nostro patrimonio termale, puntando al rilancio turistico ed economico del territorio.